I Ministeri dell'Agricoltura di numerosi paesi del Vicino Oriente e del Nord Africa hanno approvato la dichiarazione di Bari, un piano quinquennale di azioni condivise per la protezione delle piante da parassiti e fitopatie, tra cui anche la xylella. Il documento è stato definito in una riunione organizzata da FAO e CIEAM Bari in collaborazione con la Regione Puglia. Nel corso dei lavori che hanno portato alla ratifica dell'intesa, ogni rappresentante ha analizzato i propri sistemi di protezione delle piante per definire strategie comuni e contenere la diffusione di patogeni e parassiti trasfrontalieri, che rappresentano una grave minaccia per la sicurezza alimentare in contesti già gravemente colpiti dai cambiamenti climatici. La dichiarazione evidenzia anche la volontà comune dei paesi coinvolti a cooperare attraverso l'impegno a destinare risorse economiche nazionali a un fondo comune a sostegno delle attività di controllo e monitoraggio dell'intera area. La visita delle delegazioni nelle aree colpite da xylella fastidiosa in Puglia ha evidenziato il degrado economico, sociale e ambientale causato da patogeni e parassiti trasfrontalieri sul territorio ed è così stata riconosciuta l'urgenza di apportare modifiche radicali ai sistemi agroalimentari nella Regione Mediterranea per renderli più efficienti, inclusivi e resilienti.